Stai in vacanza, senti, ti sei accorto? Specie di villaggio Artur, però c'è le regole sue. Che è sto mostro? Perché sto qua? Ci mangia bene qua, per questo ce vengo spesso. Benvenuti sulla nave dei pazzi. Tutto senza senso. No, poi se ti metti a cercare il senso di piano, v'è matto. Ma non lasciare che nessuno ti racconti il mondo. Tieni il tuo sguardo aperto. Libero.